Gentili telespettatori, buona giornata. Sul Green Pass obbligatorio Matteo Salvini avrebbe un piano per cambiarlo in Parlamento perché lo reputa ingiusto e inaccettabile nonostante i suoi ministri e il suo partito al governo abbia all'unanimità con gli altri votato per introdurlo. Una cosa, come abbiamo detto in questi giorni, che l'elettorato realmente non riesce a capire o perlomeno ha dei dubbi. La domanda che viene fatta dal giornalista è questa, senatore Salvini, una domanda che fa Pietro Senaldi su Libero, proprio ieri 26 di luglio del 2000 e 21 che è il codirettore di Libero Quotidiano. Dice senatore Salvini lei è accusato di tenere una linea ambigua, dice di comprendere chi protesta contro il Green Pass ma al contempo vorrebbe tenere tutto aperto. Non pensa che se molte persone non si vaccinano il virus continuerà a circolare. Salvini dice io credo alla scienza, osservo la realtà e amo la libertà, anzi le libertà, tutte le libertà. Io mi sono vaccinato per libera scelta e anche gli italiani devono farlo per libera scelta. Sono per l'informazione, non per l'imposizione, gli obblighi, le multe. Oggi il Green Pass, con i letti di terapia intensiva, per fortuna vuoti al 98%, rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani. Una famiglia anche vaccinata che andrà in vacanza a Ferragosto con una figlia di 14 anni dovrà fare un tampone ogni volta per andare in pizzeria, in piscina o al parco giochi? Non si sta esagerando? E se il Pass evita tutti i problemi perché non riaprire in sicurezza anche le discoteche con il Pass? Ci sono in ballo 3.000 imprese, 100.000 posti di lavoro e soprattutto il diritto di milioni di ragazzi a vivere, a divertirsi in sicurezza. Ma Senaldi gli fa una domanda, dice ma i numeri stanno salendo vorticosamente. Ieri quasi 5.000 contagi, non teme che avremmo un autunno come l'anno scorso? E cosa pensa che si debba fare per scongiurare questa eventualità funesta? Perché la domanda di Senaldi è questa? Senaldi dice bene, come dire, lei, senatore Salvini, è contro il Green Pass, ma il Green Pass è fatto per cercare di prevenire quello che sta per accadere. È una prova a cui nessuno sa l'esito. Visto che sta tutto risalendo e lo spettro è quello di chiudere di nuovo le attività, lei che cosa pensa che si debba fare? Chiede Senaldi. Il dato dei ricoveri, delle terapie rimane per ora fortunatamente costante sotto controllo. Nei giorni precedenti, cifre simili o anche inferiori, gli italiani vaccinati sono ormai quasi 40 milioni. Entro settembre saranno molti di più. Le scuole e le aziende dovranno riaprire per tutti, senza esclusioni, licenziamenti o punizioni. Si può fare. Il giorno che hanno firmato il decreto riapertura ci furono... e così oggi si parla di nuovi limiti e chiusure. Solo sette. Qualcosa non torna? Matteo Salvini sta praticamente dicendo che comunque sia... la domanda di Senaldi è proprio questa. Ma se adesso stanno salendo di nuovo i contagi, lei cosa vorrebbe fare? Lui dice che gli ospedali sono vuoti. Quindi diciamo che in questo caso non c'è una risposta nel senso che alla domanda di Senaldi, vorticosamente i contagi aumentano. Se lei non vuole mettere il green pass obbligatorio, che è una prova per cercare di fermarli, lei che cosa farebbe? Lui risponde che ci sono le terapie vuote. Però non ha risposto, perché la domanda di Senaldi è se i contagi stanno velocemente risalendo, lei cosa farebbe? La risposta è che ci sono le terapie intensive e vuote. Cioè Salvini vuol dire che comunque l'indicazione sono le terapie, non i contagi. Lei comprensibilmente è scettico per i ragazzi, perché non riterrebbe una sciagura la ripresa dell'anno scolastico in DAD e non pensa che per evitarlo sia necessario che il personale scolastico sia tutto vaccinato, pensa che l'obbligo andrebbe alzato come età dai 12 ai 16 anni. Lui dice, Salvini ribadisce che secondo lui non si deve obbligare nessuno e per la salute dei figli, come l'educazione nel caso di alcune leggi, la decisione spetta a mamma e papà, non ad altri. Sul vaccino ai ragazzi non esprime dubbi Salvini, ma le comunità scientifiche di altri paesi europei, come Germania e Gran Bretagna, invitano a vaccinare i ragazzi solo se hanno altre gravi patologie. E sugli insegnanti crede che sia un falso problema, perché più del 90% di loro ha già fatto il vaccino. Alla maestra di mia figlia a settembre non chiederò di certo il pass, ma la passione di sempre. E poi si parla del Green Pass, che è di difficile attuazione. Chi controlla? Quali devono essere le sanzioni? Che cosa non la convince della certificazione verde? Chiede Senaldi. E Salvini dice, sono domande da girare ai ministri Speranza e Lamorgese. Se per le partite, negli stadi o per i grandi concerti fosse un senso, ci poteva essere. Partire a inizio agosto con tutte le altre attività sarà ingestibili. Che facciamo? Trasformiamo baristi, bagnini e camerieri in poliziotti? Gli italiani sono persone di buonsenso e rispettosi, non meritano altri problemi e altra burocrazia. Penso soprattutto al mondo del turismo, del commercio e molti genitori con figli, alle loro difficoltà. Almeno concedere tamponi salivari rapidi e gratuiti a tutti sarebbe utile. Quando il Green Pass arriverà in aula presenteremo tutti gli emendamenti necessari. Pertanto Salvini ribadisce che per lui il Green Pass obbligatorio negli stadi e grandi concerti può anche andare bene, ma per tutto il resto no. Quindi lui parla per grandi eventi, partite di basket, palazzetti dello sport, concerti, stadi, campionati di calcio, dice lì sì, c'è un senso, ci può essere, ma per il resto no. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo tra una ventina di minuti. Siamo anche poi in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti.